Piccolo consiglio pedagogico, non so se si dice così comunque, non so nemmeno se è poi tanto bene dire pedagogico, perché io soprattutto su internet ho incontrato tanti trentenni che ragionavano come proprio manco fossero dei bambini piccoli. Comunque per sviluppare la capacità divulgative di una persona diciamo, potrebbe essere pure di un animale però rimaniamo fermi alle persone, vi consiglio di dargli un oggetto tipo vedete questa scarpa e di farvi dire da lui tutto quello che ci può venire in mente su questa scarpa, chi l'ha fatta, quando l'hanno fatta, che scritte c'ha, tutte le storie che ci può stare avanti, indietro, tutto, proprio qualsiasi cosa, mostra e racconta. Questa è una cosa che ho visto dentro ai Simpson. Comunque finito questo, dopo che vi ha detto tutto quello che deve dire, vedete di convinti, cioè ditegli di vendervela, cioè tutte le tecniche di vendetela e contrattate con lui eh, no perché questo gli fa maturare molto l'intelletto, proprio una cosa, faccio vedere, proprio un consiglio che vi do. Buona fortuna, vota Omar!